L'impresa, il lavoro, la creatività e le idee al centro del premio della chermesse più attesa dell'anno, ovvero il premio Teramo che lavora. Giunta la quattordicesima edizione, l'iniziativa, nata grazie al lavoro alla capa Arbietà di Patrizio Panichi, quest'anno in collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri di Tortoreto, ormai è diventata il punto di riferimento per il mondo dell'imprenditoria. E come sempre i protagonisti della serata sono stati gli uomini, le donne e le aziende che quotidianamente scrivono le pagine più importanti per l'economia del territorio. Svoltasi per il primo anno nell'insolita ma incantevole e suggestiva cornice del litorale di Tortoreto, tra le concessioni del Bandiera Gialla e del Venus, la chermesse ha visto la presenza di circa 500 imprenditori accanto alle massi maturità politiche e militari. Durante la serata ci si è soffermati anche sul momento vissuto dal territorio abruzzese e la confinante Regione Marche a causa degli eventi sismici subiti, toccante l'intervento del sindaco di Arquata del Tronto, Leandro Petrucci, tre premiati della serata e che ha inviato un messaggio di speranza e di unità a tutti. Quest'anno i prestigiosi riconoscimenti sono andati anche a Sante Angelini del ristorante Arlecchino, l'azienda agricola Vini Biaggia, la Croce Verde di Villarosa, Edilizia Piergallini, alla Gamma Investigazioni, Oro e Diamanti San Benedetto del Tronto, a Riccardo Forti, documentarista, alla Videosound, alla Distilleria Bonollo, al Salumificio Fratelli Costantini, a Gian Maria De Paulis, presidente di Giovani Confindustria Abruzzo. Premiate anche le istituzioni militari, il colonnello Piervittorio Romano, il comandante provinciale dei Carabinieri Teramo e poi la Guardia Costiera di Giulianova. Per le scuole l'Istituto di istruzione superiore Celso e Vilpiani. Spicca tra gli imprenditori il premio a Filippo Di Antonio, presidente della Point Costruzioni. Essere premiato, sì, questa serata è veramente piacevole. Teramo che lavora, io l'impegno ce lo metto tutto sempre, quindi questa sera è arrivato questo bel riconoscimento, in una bellissima serata e quindi sono veramente soddisfatto. Sul palco, insomma, ha parlato della ricostruzione, dei problemi legati alla ricostruzione che parte, ma anche in un momento in cui lavorare e creare lavoro, insomma, sembra quasi un'impresa, un'impresa vera e propria, molto difficile. Sì, è un momento delicato della ricostruzione, abbiamo sentito anche prima il sindaco di Arquata che diceva che ci sono ancora addirittura calcinacci, quindi siamo in una fase embrioniale. Ci sono tante difficoltà burocratiche, noi abbiamo un impegno morale molto importante nella ricostruzione, dobbiamo assolutamente impegnarci e credo che sia anche giusto far lavorare soprattutto le imprese locali, perché hanno anche questo impegno morale per far risorgere le nostre città. La serata è stata impeccabilmente presentata dai conduttori Rai, Veronica Maia e Amedegoria. Tra gli altri ospiti, l'ex campione del mondo di boxe, Nino Benvenuti, l'ex Miss Italia Manila Nazzaro, Massimiliano Sini, presentatore Rai, l'alcabarettista Franco Guzzo, il duo canoro figurativo di sabbia sulle note, e infine la violoncellista Virginia Gagliani. Grazie.